Solo un malinteso, il peccato non esiste, non può esistere, è un non senso. Perché è perfettissimo? È perfettissimo perché in Lui ha ogni perfezione, senza difetto e senza limiti, ossia Dio è potenza, sapienza e bontà infinita. E quindi Dio può fare il male? No, quindi Dio non può fare il male. Chi è invece che può fare il male? Il demonio, Egli non solo può farlo ma lo vuole, è il demonio che ci porta al male. Ah, e come fa il demonio a portarci al male? Ci induce in tentazione. Ripeti. Ci, ci induce in tentazione. Esatto, dillo ancora. Ci induce, ci induce in tentazione. Egli non solo può farlo ma lo vuole, è il demonio che ciitano. Grazie a tutti.